Linda e Paolo intendono vivere la loro storia di amore con un continuo confronto con la fonte dell'amore che è Dio. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Attraverso l'amore e attraverso la grazia di Dio questi due io diventano un noi dunque il luogo epifanico della presenza di Gesù e saranno una comunione ecco una carne sola grazie per la visione! Grazie per la visione! Io, Paolo, accolgo te Linda come mia sposa con la grazia di Cristo prometto di essere fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e non arci tutti i giorni della mia vita io, Linda, accolgo te Paolo come mio sposo con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita grazie a 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 tutti i giorni della mia vita